Privet, priveti a Caterina, ciao a tutti e benvenuti al mio canale. Chi è la prima volta? Non dimenticate di iscrivervi, ok? Oggi esploderemo insieme un elemento affascinante della lingua russa, il pronome riflessivo Sibya. Questo è molto importante e si usa tanto. Questo piccolo dettaglio linguistico è particolarmente interessante perché ci permette di capire come russo esprime l'azione quando il soggetto è anche il destinatorio, è la stessa persona, ok? Mi sento, quindi, una cosa che faccio con me stesso, per esempio, ok? Alla fine del video, ragazzi, vi metto anche tutti questi verbi più usati che sono una decina dei verbi diversi che si usa con il pronome Sibya e con i verbi riflessivi. Andiamo avanti, ragazzi, e vediamo come si usa questo pronome. Senza perdere altro tempo, iniziamo questa esplorazione con il pronome riflessivo Sibya. Il pronome riflessivo Sibya in russo è così importante che è stato categorizzato proprio separatamente dai altri pronomi perché è molto importante, ok? Indica che azione compiuta dal parlante è rivolto a se stesso o a se stessa. Ovviamente ritorna al soggetto agente. Per questo motivo il pronome è chiaramente, chiamiamo, riflessivo. Quindi il pronome riflessivo Sibya indica che l'azione compiuta dal soggetto è diretto verso se stesso. Questo concetto è simile all'azione espressa dai verbi riflessivi che hanno nel loro morfema il suffisso riflessivo Sia, ok? Che molte volte, se vediamo il verbo, si pronuncia come Sia, T-Sia, ok? Quale funzione svolge il pronome riflessivo Sibya? Adesso vediamo. Se ti piace il video, non dimenticare di mettere mi piace e non dimenticare di scrivere dei commenti se ti è piaciuto qualcosa, se vuoi chiedere qualcosa, se non hai capito qualcosa, sempre non dimentichiamo di scrivere dei commenti che è consentito. Mi piace un sacco di leggere. Se qualcuno è appassionato della lingua, ovviamente, sempre scrivete dei commenti, ok? E proseguiamo. Funziona di indicare un'azione rivolta a se stessi. Una delle funzioni principali del pronome riflessivo Sibya e indicare che l'azione nella frase è diretta verso il soggetto stesso. Ad esempio, Я мил Sibya O я мил самаву Sibya Io mi lavavo Io lavavo me stesso, ok? Мил è al maschile, per questo è per un maschio, per esempio. Un altro esempio. Anna citала Siby книгу Anna citала книгу della Sibya Lei leggeva un libro per se stessa Lei leggeva un libro per se stessa, quindi non per i figli, per qualcun altro, ma per se stessa. Quindi in queste frasi il pronome riflessivo indica che l'azione di lavarsi o leggere è rivolta al soggetto stesso. Vediamo funzione di indicare la proprietà dell'azione al soggetto. Il pronome riflessivo Sibya può anche indicare che l'azione della frase appartiene al soggetto. Ad esempio Un pastorel Siby dom Un pastorel dom Della Sibya Lui ha costruito una casa per sé Lui ha costruito una casa per sé stesso, quindi, ok? Quindi Pastorel Siby Ma i copili non vuoi ve la si pede Ma copili non vuoi ve la si pede Della Sibya, ok? Noi abbiamo comprato delle nuove biciclette per noi stessi. Quindi in questa frase che abbiamo visto prima Il pronome riflessivo Sibya indica che l'azione di costruire una casa e comprare biciclette appartiene al soggetto, ok? Quindi sono fatte per sé stessi. Funzione di indicare un'azione reciproca Per esempio Il pronome riflessivo Sibya può anche essere utilizzato per indicare un'azione reciproca tra più soggetti. Ad esempio Abbiamo regalato fiori a noi stessi. Ci siamo regalati reciprocamente dei fiori, ok? E in questa frase il pronome riflessivo Sibya indica un'azione reciproca tra i soggetti. Vediamo il confronto Kot moez labkai Kot moez si bia labkai Il gatto si lava con la zampa, ok? Quindi in un caso usiamo il verbo riflessivo e in un altro usiamo il pronome riflessivo. Il pronome riflessivo può essere riferito anche ad una persona singolare e anche ad una persona plurale, più persone quindi, ok? Mi dispiace per me stesso, ci dispiaciamo per noi stessi. Gardis sa voi, garditis sa voi. Fai il fiero di te stesso, fate il fiero di voi stessi. Duh mal a si bia Duh mali a si bia Pensavo a me stessa Pensavamo a noi stessi, ok? Se vediamo caratteristiche grammaticali del pronome riflessivo in base al significato, il pronome riflessivo sostituisce un sostantivo a rispondere a domande nei casi che vediamo Nelle domande nei casi manca la domanda diretta nel caso nominativo, ciò significa che la caratteristica grammaticale di questo pronome è l'assenza della forma nel caso nominativo, ok? Quindi è importante e il pronome riflessivo si bia non ha una forma nominativo, al nominativo. Questo tipo di pronome non ha le caratteristiche grammaticali di persona, numero e genere. Può riferirsi a qualsiasi pronome personale, sia singolare che plurale. Vediamo gli esempi e capiamo meglio. Quindi non importa se è singolare o plurale, ok? Ok ragazzi, se vi piace il contenuto non dimenticare di mettermi un like se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale e iscrivetevi nei commenti, ok? Perché adesso vediamo dei verbi che possiamo usare con questo pronome riflessivo e facciamoli esempi con le traduzioni ovviamente in italiano. Il primo verbo è ciustavate si bia, quindi sentirsi. Я чувствую себя хорошо, mi sento bene. Он чувствует себя усталем, lui si sente stanco. Quindi usiamo con il caso, lo strumentale, questo verbo. Ты должен вести себя уважительно. Вести себя comportarsi. Ты должен вести себя уважительно. Devi comportarti con rispetto. Мы ведем себя так, как нас научили. Ci comportiamo come ci hanno insegnato. Считать себя. Считать себя, considerarsi. Он считает себя счастлив. Si considera fortunato. Она считает себя успешной. Si considera una persona di successo. Di nuovo con lo strumentale. Понимать себя, capirsi. Трудно понимать себя иногда. A volte è difficile capirsi. Я стараюсь понимать себя лучше. Cerco di capirmi meglio. Уважать себя, rispettarsi. Уважай себя, не позволяй другим тебя унижать. Quindi, rispettati. Non permette alle altre di umiliarti. Уважайте себя и свою работу. Риспettatevi e rispettate il vostro lavoro. Развивайте себя. РазвANNA prose. ЗвILLЯ ПАРСИ. Развivat себя. Развивают себя. Он постоянно развивает себя профессионально. Он постоянно развивает себя профессионально. Si svILLЯ ПРА. Профессионалненьте, костантименьте. Развивать себя в разных областях Развивайте себя в разных областях Любите себя, амарси Люби себя таким, какой ты есть Амати per quello che sei Мы должны учиться любить себя Dobbiamo imparare ad marci Выражать себя, esprimersi Она любит выражать себя через искусство Ли piace esprimersi attraverso l'arte Каждый может выражать себя по-своему Ognuno può esprimersi al modo proprio A modo proprio Quindi ragazzi per oggi è basta Abbiamo visto un sacco di verbi Abbiamo visto un sacco di esempi Spero che sia chiaro per voi Spero che avete apprezzato questo video Perché mi sembrava molto interessante E molto importante di condividere Questo pronome riflessivo Che dà alcune volte tanti problemi Ai stranieri di usarlo Spero che sia tutto chiaro Se non è chiaro qualcosa Scrivetemi nei commenti E vi faccio magari qualche commento O vi faccio un altro video Целую и пака пака Baci